Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Millequadri. In questo video vi presenterò un'opera del pittore norvegese Munch che si intitola Il grido o l'urlo ed è una delle opere più celebri della pittura. Ho deciso di utilizzare la pronuncia Munch e non Munch dopo aver ascoltato un video realizzato dal Museo di Oslo. Vi chiedo comunque di perdonarmi sin d'ora per ogni eventuale errore di pronuncia sia in questo video sia in altri, soprattutto quando pronuncio i nomi di pittori francesi. Nel corso del video vi presenterò tutta la gestazione dell'opera che è stata molto lunga e che ha portato alla realizzazione di tanti bozzetti e di diverse versioni del quadro con tecniche diverse. Vi auguro una buona visione. Il grido o l'urlo è uno dei più celebri dipinti della storia della pittura, una di quelle opere iconiche che tutti conosciamo e che sono entrate nel ristretto numero di quadri che appartengono all'immaginario collettivo, tra i quali possiamo comprendere la gioconda di Leonardo, la notte stellata di Van Gogh, la ragazza conturbante di Vermeer e pochissime altre. Ma proprio perché è così celebre, il grido di Munch rischia di essere approcciato con superficialità, di essere dato per scontato come avviene per ciò che è così familiare da diventare puro sfondo, una parte delle cose che fanno parte dell'arredo che ci circonda e a cui non diamo più importanza. Il grido è ancora una volta, come abbiamo visto in altri video, non una singola opera, ma una serie che comprende opere a tecnica mista, a pastello, litografie e disegni e che sono state realizzate tra il 1893 e il 1910. Se ne contano circa 50 versioni. Il quadro sul quale mi concentrerò maggiormente è quello del 1893, che vedete nell'immagine, quello che probabilmente ha raggiunto la massima intensità espressiva, quello che insomma urla più forte, fino ad entrare nelle orecchie e nelle fibre dei visitatori che hanno avuto il privilegio di osservarlo alla Galleria Nazionale di Oslo, dove è conservato. Questo è un aspetto importante. Per quanto si possa studiare a fondo un'opera sui libri, per quanto la si possa apprezzare attraverso una riproduzione in alta definizione, che sia attraverso una stampa cartacea o attraverso un file digitale, la visione dal vero mantiene un significato fondamentale. Questo vale sia per l'analisi tecnica del tratto pittorico, della stesura dei colori, dei tratti del disegno, che possiamo indagare in profondità, sia per una questione più impalpabile e difficile da descrivere, legata al carisma, all'energia che un'opera emana dal vivo. Purtroppo non ho mai avuto modo di vedere l'urlo dal vivo ad Oslo, dove è conservato, e per questo motivo ho pensato di farmi condurre, nel corso di questo video, da una guida ideale, uno dei più grandi storici dell'arte del Novecento, Federico Zeri, che, da appassionato quale sono, considero una guida importantissima, una delle figure che ha più saputo avvicinarmi allo studio ed all'amore per l'arte. Più avanti citerò alcune sue parole sull'opera di Munch e riprenderò alcune sue osservazioni sempre illuminanti. Nell'immagine vediamo Federico Zeri. Il grido può essere considerato un'opera espressionista, perché esprime appunto una condizione interiore dell'artista che grida, esterna il proprio disagio. L'urlo incarna perfettamente la dinamica espressionista, che va dall'interno, dal mondo personale dell'artista, con il proprio bagaglio di emozioni, di tensioni, di conflitti, che ne caratterizzano il vissuto, verso il mondo esterno, verso noi spettatori. Percorso diverso, ad esempio, da quello dell'impressionismo, dove il mondo esterno stimola la percezione sensoriale del pittore, che ne coglie con il proprio gusto l'impressione. Munch stesso disse della propria arte. La mia arte è in realtà una confessione fatta spontaneamente, un tentativo di chiarire a me stesso in che relazione sto con la vita. È fondamentalmente una specie di egoismo, ma non perdo la speranza che, grazie ad essa, riuscirò ad aiutare altri a vedere più chiaro. Il personaggio in primo piano, che vediamo nel dipinto, una sorta di essere serpeggiante, come se fosse privo di colonna vertebrale, dal volto scarnificato e dalle mani allungate, è posto in solitudine. In lontananza vediamo altre due figure umane, che Munch stesso ci dice essere due amici. Il grido viene pertanto lanciato in un momento di isolamento, di totale sprofondamento nella propria angoscia, dove nemmeno la compagnia degli amici può allenire la sofferenza interiore. In realtà l'espressionismo di Munch va ancora oltre l'espressione di un sentimento interiore, coinvolgendo anche la natura posta all'esterno. Come ha testimoniato lo stesso pittore, durante una passeggiata all'ora del tramonto, mentre si trovava su una strada di collina poco lontano dalla città di Oslo, l'artista ebbe la sensazione di sentire l'urlo della natura e gli parve di vedere le nubi tingersi di rosso sangue. Queste le parole esatte che Munch, che vediamo in un autoritratto, scrisse a proposito di questa esperienza terrificante vissuta e poi trasportata nel quadro. Camminavo lungo la strada con due amici. Quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso, sangue. Sentii un soffio di malinconia, un dolore estenuante sotto il mio cuore. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto a una palizzata. Sul fiordo nero e azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. Ecco, il quadro pare davvero dare forma a queste parole potentissime. Munch sente quindi urlare la natura che lo circonda e per reazione si copre le orecchie, ma a sua volta lancia un grido lancinante e con questo grido Munch sembra non solo esprimere un sentimento personale, ma catturare un sentimento universale, quello di un'umanità alla disperata ricerca di se stessa e di un senso. Da questo punto di vista l'urlo è un dipinto totale, universale, che coinvolge l'individuo, l'umanità e la natura, quindi il mondo intero. L'individuo in primo piano, emblema di un'umanità smarrita, procede incerto, ondivago, privo di stabilità interiore, in un ambiente, un paesaggio, che a sua volta non ha e non dà punti di riferimento certi, se non attraverso la linea obliqua della palizzata che attraversa il quadro. La linea stessa che caratterizza la stesura pittorica è flessuosa, ondeggiante e permea il dipinto come un'onda energetica che si propaga ovunque. Ma vediamo ora di ricostruire la lunga genesi del dipinto. Tutto inizia anche questa volta a Parigi. Nel 1889, grazie ad una borsa di studio, Munch si reca nella capitale francese, dove incontra i grandi fermenti artistici di fine secolo. Il dipinto che vediamo è un olio su tela, del 1891, antecedente solo due anni il grido. Questa opera risente della lezione impressionista, soprattutto per il tratto pittorico, frammentato ed approssimativo. L'aspetto più interessante ai fini dell'analisi dell'urlo è però il taglio ardito del balcone, probabilmente dello stesso appartamento dove alloggiava Munch in Rula Fayette. È possibile che Munch vide un dipinto di Kyle Bott che potete osservare nell'immagine, datato 1880, quindi antecedente di un decennio l'opera del norvegese che abbiamo appena visto. Naturalmente non c'è alcun collegamento diretto tra un dipinto come questo con il grido, però è interessante notare delle suggestioni che un pittore come il norvegese può avere raccolto nel corso della permanenza parigina, suggestioni anche solo legate ad un taglio compositivo come questo di Kyle Bott, un taglio fotografico che rompe nel linguaggio pittorico-accademico. Per inciso, Munch disse di aver avuto grandi aspettative rispetto alle opere esposte al Salon di Parigi, ma di esserne invece rimasto profondamente deluso. Torniamo alle opere del pittore norvegese. Disperazione, che vediamo, è del 1892 ed è un punto fondamentale nella gestazione dell'urlo. Ci sono delle differenze importanti. Il personaggio in primo piano, di profilo e con il cappello, ha ancora una fisionomia riconoscibile, lontanissima dall'essere che urla. La costruzione del quadro è però molto simile e ci aiuta anche a comprendere meglio quel che nel grido è completamente trasfigurato. Qui ci rendiamo conto che i tre personaggi, Munch in primo piano e i due suoi amici, si trovano in una posizione rialzata rispetto al fiordo. Percorrono una strada in collina, forse un ponte, protetto da una balaustra, che taglia obliquamente il quadro. Il cielo è già quello infuocato al tramonto, ma sotto il cielo distinguiamo meglio il fiordo, quel braccio di mare che si insinua nell'entroterra norvegese, solcato da alcune imbarcazioni e circondato da rilievi. Circa le possibili fonti di ispirazioni di Munch per la figura che urla, è ormai consolidata l'idea che il pittore abbia visto una mummia peruviana in un museo di Parigi. Indubbiamente notiamo una forte somiglianza tra il volto scarnificato della mummia e quello del personaggio in primo piano nel grido. Anche la posizione delle mani è molto simile. Munch inizia quindi a pensare al personaggio che urla e realizza vari schizzi preparatori. Tra questi vi presento quello che vedete nell'immagine dove il grido sembra propagarsi attraverso le braccia alzate. Torniamo alla versione definitiva del quadro, quella più conosciuta e decisamente più incisiva, che risale al 1893 e che è conservata al Museo Statale di Oslo, da non confondere con il Museo Munch sempre ad Oslo. Il dipinto che vediamo misura centimetri 91x73,5 ed è una tecnica mista olio, tempera e pastello su cartone. Munch a proposito della propria opera disse non dipingo mai ciò che vedo ma ciò che ho visto. Infatti anche il grido venne ideato a Anizza per quanto rielabori un evento realmente accaduto nei pressi di Oslo la passeggiata appunto con due amici che erano pittori Christian Krogh e Fritz Taulov. Krogh era maggiore di Munch di 11 anni ed era un'autorità nell'ambito della pittura norvegese di stampo naturalistico. Taulov di scuola impressionista è invece celebre per il senso di movimento che riusciva a dare ai corsi d'acqua. Nell'analisi di questo dipinto iconico possiamo essere fuorviati dall'apparente semplicità di esecuzione. In realtà dietro la realizzazione del dipinto c'è uno studio approfondito che ha portato, come abbiamo visto, ad una lunga gestazione e alla realizzazione di diversi schizzi. Ma soprattutto c'è un grande pittore anche sul piano tecnico. A questo proposito ho pensato di riprendere le testuali parole di Federico Zeri. In descrizione potete trovare i riferimenti al libro che raccoglie gli scritti del grande storico dell'arte, libro che si intitola Un velo di silenzio. Queste le parole di Zeri sull'urlo di Munch. Secondo me il pregio straordinario di questo quadro è la perfetta stesura della pennellata. Nella mia vita ho visto pochi quadri in cui la pennellata sia uno strumento così docile e così stringato, perché, se si esamina l'originale, ci si accorge che l'autore è un uomo di una consumatissima abilità tecnica, in quanto è riuscito a ottenere il massimo con il minimo sforzo, cosa che non si può dire di tutti quanti gli espressionisti posteriori. In queste poche righe Federico Zeri ci ha dato una grandissima lezione di storia dell'arte, perché, come lo stesso Munch, Zeri è riuscito a ottenere il massimo con il minimo sforzo, cioè, con il suo linguaggio molto lineare, accessibile e chiaro, è riuscito ad esprimere concetti molto potenti ed illuminanti. Munch, dunque, ci dice Zeri, è un pittore che, visto dal vivo e qui torna l'importanza del contatto diretto con l'opera, ci mostra una grande abilità tecnica, una capacità di ottenere con poche stringate pennellate il massimo dell'effetto. Non solo, Zeri, che era chiamato il più grande occhio vivente, per sottolineare l'enorme capacità di comprendere e riconoscere le opere e di collegarle tra di loro nel fitto intreccio della storia dell'arte, afferma che, raramente nel corso della sua vita aveva incontrato un tale controllo del pennello, una tale capacità di sintesi. E questo linguaggio pittorico, che caratterizza il grido, che sempre Zeri collega a quello dell'art nouveau internazionale nell'andamento ritmico e sinuoso della linea, diventa, con i colori violenti di Munch, uno strumento potentissimo di espressione di un sentimento di disagio. Forse il segreto del quadro, la formula che fa esplodere letteralmente la tela, è proprio la convivenza tra, da una parte, un ritmo cadenzato che ha la forma di un'onda che si propaga ovunque e dall'altra i colori trasfigurati di un'allucinazione, il rosso sangue del cielo, il pallore dell'essere in primo piano il blu ed il nero del fiordo. C'è anche un altro aspetto molto importante sul piano compositivo. Il quadro contiene due momenti distinti. Uno è più strutturato ed è rappresentato dal ponte con la balaustra posto sulla collina di Eckberg, non lontano da Oslo, su cui camminano il pittore ed i suoi amici. Poi abbiamo il resto del dipinto che è una forma organica in tumulto, tutta onde e curve. Questa parte invade la passerella o ponte che sia e si impossessa della figura in primo piano. È come se l'instabilità di cui è pervaso l'intero paesaggio avesse catturato anche l'uomo che urla. Lui non è più nel mondo stabile, quello rettilineo e solido della passerella con la palizzata, ma è iniziato a vibrare e tremare all'unisono con la natura circostante. L'urlo della natura è diventato il suo urlo. Notiamo anche come Munch sottolinei con i colori a pastello l'andamento del quadro. Con linee curve viene marcato l'andamento sinuoso del paesaggio, con linee rette viene marcata la fuga prospettica della passerella. Questa versione del quadro è stata rubata nel 1994, proprio il giorno dell'inaugurazione dei giochi olimpici invernali. I ladri in meno di un minuto si infilarono nel museo e portarono via il quadro, lasciando anche un messaggio beffardo che diceva grazie per le misure di sicurezza così scarse. L'opera venne poi ritrovata tre mesi dopo. Recentemente, nel febbraio 2021, alcune perizie grafologiche hanno appurato che una strana scritta matita che si trova tra le lingue del cielo del grido sono state scritte proprio da Munch. La frase può essere così tradotta «Poteva essere stato dipinto soltanto da un pazzo». Munch avrebbe aggiunto la frase sul quadro attorno al 1895, quando uno studente di medicina, dopo aver visto l'opera, aveva messo in discussione la salute mentale del pittore. Vi sono altre versioni dell'urlo, ma decisamente meno potenti sul piano espressivo. Questa versione è a pastello ed è sempre del 1893, ma antecedente il dipinto più celebre. Questa invece è una versione del 1895 sempre a pastello e mi piace particolarmente. Questa invece è una tempera del 1910, conservata al Museo Munch di Oslo, quindi molto posteriore. L'opera venne rubata nel 2004 e poi rinvenuta nel 2006. Prima di passare ad una presentazione di altre opere che riprendono l'impostazione dell'urlo, è importante segnalare come questa opera capitale rientrò in un progetto più ampio ideato da Munch e intitolato Il fregio della vita, una serie di quadri che rappresentano alcuni temi fondamentali dell'esistenza e che Munch esporrà insieme a più riprese, ad esempio a Berlino nel 1892 e a Lipsia nel 1903. Munch cercò quindi di riunire i suoi dipinti principali secondo un filo conduttore che si sviluppava attraverso i temi della nascita e della fine dell'amore, dell'angoscia e della morte. Nell'immagine vediamo una ricostruzione del fregio della vita alla Galleria Nazionale di Oslo. Ho pensato di mostrarvi anche due opere che riprendono l'impostazione del grido seppure con qualche modifica. La prima è Disperazione del 1894 che ritorna alla definizione della figura umana in primo piano e che è a sua volta collegabile con il personaggio di un'altra serie di opere di Munch che si intitola Malinconia. Il secondo quadro si intitola Ansia e vediamo diverse figure che avanzano sul ponte verso di noi. Questo schema viene ripreso da un'altra opera molto celebre del 1892 che si intitola Sera sulla via Karl Johann. L'Urlo di Munch è una delle opere più conosciute al mondo ed è stata riprodotta copiata e rielaborata innumerevoli volte. È un dipinto che fa parte dell'immaginario collettivo e che è entrato nella cultura popolare. Per questo ho pensato di mostrarvi l'Urlo realizzato da Gerald Scarf un illustratore e fumettista inglese. Il dipinto è stato utilizzato come locandina del film The Wall del 1982 con le musiche dei Pink Floyd e la regia di Alan Parker. Il film riprende e sviluppa il concept già presente nel celeberrimo disco della band inglese del 1979 per il quale lo stesso Scarf curò le illustrazioni. Arriviamo infine ai nostri giorni con questa emoticon la faccina che urla evidentemente ispirata all'opera di Munch e che tutti noi utilizziamo ogni giorno con i nostri smartphone. Ancora una volta constatiamo come l'idea di Munch riesca ad ottenere il massimo effetto con il minimo sforzo. Nel corso del video vi ho mostrato come dietro l'apparente semplicità di questo quadro ci sia invece un grande studio da parte del pittore e una sua notevole capacità tecnica come ha sottolineato lo storico Federico Zeri. Il grido è considerato una delle opere più importanti e iconiche della storia della pittura. Vi chiedo cosa pensate in proposito perché secondo voi il grido è un'opera così celebre? Fatemelo sapere nei commenti. Se avete gradito il video mettete mi piace ed iscrivetevi al canale. Io vi aspetto alla prossima e vi ringrazio per la visione. per la visione. Grazie